Ben trovati con il TIGILIS di Telebari. Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro saranno installate nuove cassette di sicurezza dopo il ritorno dei furti. I bagnanti raccolgono centinaia di firme, ognuno potrà metterci dentro i propri effetti personali e poi portare con sé la chiave. I periti tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo. La piaga è tale che la polizia locale sta facendo dei servizi mirati, si fingono bagnanti e vanno a caccia di predoni di borse lasciate incustudite dai frequentatori della spiaggia. E' proprio nel corso di uno di questi appostamenti che è stato deferito in stato di libertà un 35enne di Terlizzi. L'accesso a qualsiasi titolo o agli uffici giudiziari della Procura di Bari per rispetto nei confronti delle istituzioni che quei luoghi rappresentano è possibile soltanto con un abbigliamento consono e decoroso, pertanto sarà vietato l'ingresso a coloro che si presentano in pantaloncini, bermuda, ciabatte. E' il contenuto di una circolare firmata nei giorni scorsi dal Procuratore di Bari, Roberto Rossi, è trasmessa a tutte le categorie del mondo della giustizia, personale addetto alla sicurezza, amministrativo, forze dell'ordine, magistrati, inquirenti e avvocati. E adesso le altre notizie del TGLIS. Dal 18 luglio la Puglia e Roma sono unite più comodamente grazie all'Espresso Salento di FS Treni Turistici Italiani. Si tratta del nuovo collegamento notturno tra Roma e Lecce che nasce dall'esigenza di rispondere velocemente alla domanda turistica dentro e fuori i confini nazionali, aumentando le destinazioni a disposizione dei vacanzieri. Da lunedì limitazioni al traffico su via Piccini per lavori di manutenzione straordinaria delle basole all'intersezione con via Sparano. Lo rende noto il comune di Bari. Ci saranno anche variazioni delle linee degli autobus 1 e 12. Metodi contraccettivi, prevenzione dei tumori, importanza delle vaccinazioni, gestione delle infezioni, supporto psicologico per donne e bambini. Sono alcuni dei temi delle sessioni del progetto di telemedicina che vede da una parte i medici del Policlinico di Bari, dall'altra operatrici sanitarie in formazione dai campi profughi di Raka in Siria. Questo programma è nato con l'obiettivo di promuovere la cooperazione tra i popoli e di migliorare la salute e il benessere delle donne siriane, spiega il professor Angelo Vacca, direttore del Centro Interdipartimentale della Ricerca in Telemedicina dell'Università di Bari. Al Castello Svevo di Bari una mostra dedicata a Francesco Martino, ginnasta barese e primo pugliese a vincere un oro olimpico. La mostra fotografica si terrà nella Sala Sveva del Castello dal 26 luglio, giorno di inaugurazione dei giochi di Parigi 2024 al 29 settembre. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. È una promessa mantenuta per un territorio affamato di sicurezza, lo ha detto il questore di Bacletta Andrea Trani, Alfredo Fabbrocini, annunciando l'assegnazione alla questura di una settantina di agenti che saranno distribuiti in vari uffici e commissariati. L'arrivo dei poliziotti è un'apertura di credito da parte del Ministero dell'Interno e della Polizia e noi dovremo fare il nostro meglio per impiegare questi giovani agenti che faranno bene a questa provincia che ne ha bisogno, ha concluso Fabbrocini. In un appartamento in cui veniva esercitata abusivamente l'attività di barbiere, nascondevano una pistola mitragliatrice di fabbricazione israeliana in un baule colmo di addobbi di Natale e anche alcune dosi di cocaina all'interno di un borsello. Per concorso nei reati di detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, ricettazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Taranto hanno arrestato due persone, un trentottenne e un quarantaduenne. Con l'accusa di tentato omicidio un trentenne, ospite della foresteria per stranieri impegnati in lavori stagionali, Masseria Boncuri a Nardò in provincia di Lecce è stato arrestato dalla polizia. Il trentenne, originario del Marocco, avrebbe ferito con un macete un connazionale di 32 anni, anche lui ospitato nella stessa struttura. Sono tre le città della Puglia candidate a capitale italiana della cultura 2027. Il ministero ha ufficializzato la lista delle 20 città italiane che hanno inviato la manifestazione di interesse per concorrere al titolo. Dopo Alberobello e Brindisi arriva anche la candidatura salentina di Gallipoli. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.